Ma lei cosa vuole fare? Eh ma questo non lo so ancora, non l'ho capito ancora, non ho mai fatto... Io sono costretto a rubare l'ultima domanda che ti ha fatto dare a Pignardi, cosa vuole fare nella vita Guido Prera? Perché lì non sembravi avere le idee chiarissime. Ancora adesso non ce le ho chiare. No.